Il senso del fallimento Lui che voleva coprirsi di gloria, avere degli applausi, dei like oggi da parte dei suoi compaesane E allora invece sta lì a marcire insieme agli altri e per Francesco termina un periodo, il periodo della fanciullezza Francesco, figlio di papà, sta lì e lì comincia per lui come un tempo di buio, un periodo bruttissimo Ecco come mi ricordo una canzone di Ligabue, si intitolava Certe notti Certe notti si prendono decisioni, la notte è il tempo della riflessione, è il tempo di leccarsi le ferite Ma anche un tempo di avviamento di una strada nuova che si apre davanti alla vita di Francesco Poi vedremo magari un'altra tessera domani sera come Francesco tornando a casa Riprende, ha una malattia strana, una depressione fortissima Ma riprende la sua vita di prima fino a quando il Signore in maniera più aperta, più pressante gli parlerà Francesco, che fai? Va, ripara la mia casa E come vedi sta andando in rovina Francesco si rimbocca le maniche e comincia una nuova vita per lui stesso Amen Grazie a tutti Grazie a tutti